Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Roma ci sono 4 km di coda per incidente sul tratto appenninico tra Aglio e Calenzano. Ci sono code a tratti tra Firenze e Scandici e Incisa Reggello per traffico intenso. In A11 un chilometro di coda tra Chiesina Uzzanese e Pistoia in direzione Firenze per un incidente. Ci sono rallentamenti anche sulla statale 62 della Cisa per un senso unico alternato ad un chilometro da Pontremoli in entrambe le direzioni. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata in direzione Siena tra Monte Rigioni e Siena e tra l'allacciamento A1 Firenze in Pruneta e San Casciano Nord. Moversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!